Allora, ti chiami? Del Buone Rasit Sei del Marocco, quanti anni hai? 25 Da quanti anni stai in Italia e da quanto tempo a Lugo? Sempre stai qua in Lugo, 5 anni e 3 mesi così stai qua in Italia Il regolo ha permesso di soggiorno? No, prima hai fatto molte malattie però Ah, ok, vabbè Allora per le cose successe venerdì sera Per quella cosa siamo io e me con me è fermato, è arrivata due macchine Sì Una di grigia, una a punto però il colore non mi ricordo e quando hai visto io il figlio di sindaco è scappato e è menato quei me con me Ho capito Sei scappato prima che iniziamo a menagli o? Sì, prima dei vissi o menagli E come mai sei scappato prima? Eh, sta detto che stai a fare qua io conosco che è scappato sta detto a mio comune che scappa e non è scappato Perché sapevi che era già successo altre volte o? Sì, poi sentito io quella serata già hai fatto due schiaffi a due marocchini e ho scappato Ho capito Allora che cosa è successo? Ecco, quello gestando in macchina ho sentito quattro persone gestando altre due stai a guidare non scendi tu giù Quindi quante persone erano? Io ho visto quattro a piedi sentito quando scendi la macchina sentito stanno a prendere segretta quando arrivano vicino a loro e mi hanno detto che stai a fare e quello è scappato e l'altro lo sta eliminato oltre al figlio razzino che è poliziotto oltre a lui gli altri non conoscono nessuno conoscessero quello Dopo che cosa è successo? Quando hai saputo come è andato a finire per il tuo amico? E quando è scappato io ho saluto sopra e ho guardato la via Michelangelo io stai sopra e loro stanno sotto quando è fermata una macchina forse una signora poi è scappato da loro e ho tornato io al posto e ho provato a prendermi come perché è tutto il sangue non mi ricordo di niente quando si tornava Quello che abita di fronte tu l'hai visto che ha aperto il balcone? No, quando sei tornato io non ho visto nessuno se ho aperto o non ho aperto però lui quella parola che ho detto è un amico mio e poi al carabiniero di Davizzano ho fermato io dalla strada quando è arrivata la bilanza e la parola che ho detto ho sentito Ho capito Tu dici che hai riconosciuto il poliziotto il figlio del sindaco? Si Quindi il poliziotto è il figlio del sindaco? Si 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 Com'è che lo conoscevi? Eh perché ho visto io già ho detto 5 anni che lo conosco non è la prima volta già andato alla caserma ho visto però ho fatto la pronta alla caserma Quindi l'hai visto al commissariato? Si al commissariato E lui lavora là al commissariato di Alza Si si Tu sei comunque andato al testimoniare? Con la polizia? Si E Un giorno dopo quando si è chiamato al telefono solo fra tre giorni fa quattro giorni si è andato quattro giorni si è andato al polizio T'hanno chiamato loro? Si E che cosa gli hai detto? Eh stanno a dire vieni parliamo per quello così perché loro non saranno io senza permesso ho capito e ti hanno ti hanno detto cioè che cosa gli hai raccontato tu? Che l'hai riconosciuto? Si stanno a dire E loro come hanno reagito? Eh è andato la foto e ho visto le foto di lui e mi stanno a dire Ah ti hanno fatto vedere la foto? Si E tu l'hai riconosciuto dalle foto? Si Sì 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 Grazie a tutti